La notizia era rimbalzata nelle scorse settimane, poi il silenzio. Oggi torna alla ribalta l'ipotesi che nei prossimi giorni, in ogni caso prima delle festività natalizie, Salvatore Cuffaro, attualmente detenuto nel carcere romano di Rebibbia, dove sconta la condanna definitiva a sette anni per avere favorito Cosa Nostra, possa essere affidato, con decisione del Tribunale di Sorveglianza, ai servizi sociali per il periodo residuo di detenzione. La destinazione di lavoro di Cuffaro potrebbe essere, usiamo il condizionale, ma al momento non sono state rese note altre ipotesi, la missione Speranza e Carità di Biagio Conte in via Archirafi. La struttura comprende anche la sede di Via Decollati e ospita una mensa, laboratori artigiani e diversi altri servizi. L'ipotesi di lavorare alla missione in realtà era stata offerta nei mesi scorsi dallo stesso Cuffaro, che però aveva sottolineato come la decisione finale spetti al Tribunale. Bocche cucite dai legali dell'ex presidente della regione, che in questi anni arrebibia pur rilasciando diverse interviste, non è mai intervenuto nel dibattito mediatico e anche politico sulla sua vicenda, ma si è limitato a dire rispetto alla sentenza, il mio cammino personale accoglie anche questo tratto di strada che un giorno terminerà. Bocche cucite anche alla missione di via Archirafi. Nei giorni scorsi Biagio Conte si è limitato a dire non abbiamo mai rifiutato nessuno, non inizieremo adesso a farlo.